Nonostante il sindaco di Caltanissetta da capo d'Orlando mandi messaggi distensivi alla politica rispetto alla decisione di non operare nessun rimpasto nella sua giunta, l'acqua sul fuoco non servirebbe a far calmare gli animi, di quanti invece un rimpasto lo chiedono da tempo. E tra l'altro, prima e ultima ordine di tempo, il consigliere Averna, durante l'ultimo consiglio comunale, prima delle ferie, lo ha chiesto e dunque sono proprio i suoi ad incalzare. A niente sono servite le cene pre-vacanziere a base di carne rostita al barbecue per convincere il primo cittadino a passare i distinti saluti almeno con due dei suoi assessori. Nel caso specifico, i primi ad andare via, detta dei beni informati, dovrebbero essere l'assessore Laura Zurli, tra l'altro adesso preside della Cordova, quindi trasferita in città dovrebbe avere più tempo per amministrare l'assessore del PID, che non ha più rappresentanza in consiglio, Tanino Angiella. E se dalla prima non trapela un commento, il secondo pare abbia detto ai più stretti collaboratori di non avere alcuna intenzione di andare via, se non sollecitato. E nonostante il serrare le fila in vista delle prossime amministrative di Campisi, l'aria che si respira nella giunta pare essere molto tesa gli uni contro gli altri, armati e neanche troppo riservatamente ormai. E se nessuno pare voglia fare un passo indietro, il sindaco deve fare i conti con una squadra senza alcuna rappresentatività politica. Infatti gli assessori per lo più tecnici non hanno corrispondenza in consiglio e chi ce l'aveva adesso non ce l'ha più.